Il cane è il miglior amico dell'uomo e anche al lettore può fare buona compagnia. Lo dimostra la giornalista e scrittrice Maria Teresa Carbone, che ci racconta 111 storie a 4 zampe, ricche di spunti, aneddoti, curiosità. Si parte da Butiyu, membro della guardia reale di un faraone della VI dinastia dell'impero egizio, stiamo parlando di oltre 4.000 anni fa, e si arriva allo Zinnake Peace, monumento inaugurato 30 anni fa al centro di Bruxelles, scudiero del più celebre Manneken Peace. In mezzo troviamo musi noti, come i personaggi dei cartoni animati Brian e Pluto, o gli eroi del piccolo e grande schermo Rex e Rintintin. Ma anche veri eroi in pelo e ossa, come Roselle, cane guida che accompagnò il non vedente Michael Higgins fuori dall'inferno delle Twin Towers l'11 settembre 2001. O il grigio, angelo custode di San Giovanni Bosco, più volte misteriosamente apparso a difenderlo da diverse insidie. Insomma, tra mitologia, storia e letteratura, questi 111 cani costituiscono una vera e propria carica di emozioni e di simpatia.